Musica ...di un potente editor che è Sigil che serve per pulire e perfezionare un ebook creato con un editor ePub avevamo predisposto tutti un file comune in ePub che era il convito di Platone e lo apriamo da file con l'opzione in Sigil con apri bisogna subito verificare che le due piccole icone che sono sulla vostra destra nella barra degli strumenti siano selezionate e queste icone hanno la forma una come di uno scopino giallo e l'altra di un piccolo divieto di accesso la prima serve per pulire con HTML Tidy e se questa opzione è selezionata i contenuti dei documenti HTML saranno ripuliti alla prima apertura con l'opzione appunto di pulisci e il documento sarà ripulito quando si passa da una vista all'altra quando l'opzione invece è deselezionata sarà effettuata solo la correzione degli errori più semplici perché il documento possa essere scritto in XHTML validato l'altro è quello con il divieto del bottone con il divieto di accesso anche questo deve essere selezionato perché è il Checking for Well-Formed Errors se questa opzione è selezionata il contenuto dei documenti XML e HTML verrà controllato per gli errori strutturali che sono eventualmente presenti nel documento anche qui quando si esce dalla visualizzazione del codice viene presentata una finestra di dialogo che chiede di risolvere gli eventuali problemi che si sono presentati oppure di risolvere manualmente il problema quando questa opzione invece non è selezionata non viene attuato nessun controllo degli errori questo ha come ripercussione quello di perdere molti dati perché gli errori saranno riparati automaticamente un'altra opzione importante per controllare il testo è l'indice dei contenuti TOC bisogna ripulire questo indice allora nella parte destra in fondo trovate un bottone con scritto genera TOC da titoli e vi si apre una finestra potete vedere comunque comparando le due finestre talvolta possono comparire degli elementi senza nome che vanno sicuramente tolti dall'e-pub perché sono pagine con errore o pagine vuote quindi è importante togliere la spunta per avere un indice che sia davvero ripulito quindi potrei trovare sicuramente nell'indice dei riferimenti che sicuramente vanno ripuliti il risultato di questo semplice lavoro è che proprio l'e-pub risulta ora perfettamente a posto e si può passare quindi alla validazione dell'e-pub stesso ricorrendo al validatore interno a sigil che si presenta sotto forma di una spunta verde e che si trova nella barra dei menu a destra cliccando su questa icona spunta avviene la validazione l'elaborazione del testo e la validazione e se tutto è andato come doveva andare il risultato nessun problema è stato trovato nell'e-pub successivamente ho aperto il testo e-pub in e-pub con Adobe Digital Edition per controllare il risultato e come compare il testo e come è la sua navigabilità del testo una volta che ho aperto il testo per poter operare sul testo l'ho aggiunto alla libreria con l'apposito bottone aggiungi elemento alla libreria in questa maniera mi si sono attivati diverse possibilità di tasto quella importante, una importante e quella di segnalibri dopo aver evidenziato una parte del testo ho cliccato su segnalibro il segnalibro mi permette anche di aggiungere delle note per ricordarmi di che cosa si tratta interessante è un'altra opzione che è quella di diminuire aumentare il carattere del testo c'è la possibilità con Adobe Digital Edition di cercare delle parole in tutto il testo queste progressivamente vengono evidenziate nel testo stesso le parole che possono essere parole chiave dei nomi queste mi vengono messe in evidenza e quindi posso vederne la ricorrenza posso mettere l'e-pub in vista con l'apposita funzione in vista lettura doppia e ho due pagine sullo stesso foglio e qui possiamo poi continuare con la visione dell'e-book con Firefox vediamo che mi viene la resa che qui dell'e-pub realizzato il convito di Platone risulta ottima e con questo ho finito per quanto riguarda Sigil poi questa settimana avevo anche proposto due letture e due articoli riguardanti il self-publishing e uno degli articoli è un articolo di Granieri che fa alcuni esempi di self-publishing e di come il digitale trasforma l'individuo culturale e l'industria culturale il digitale abilita a fare su larga scala ciò che prima poteva essere fatto in forma ridotta e passando per intermediari dice che Jeff Berzos è il pioniere di Amazon che a partire dagli anni 90 ha intuito la necessità di liberarsi dalla fisicità del libro ha impostato Erzos un nuovo modo di produrre libri al posto del ciclo del libro che era condizionato nella sua esistenza e nella sua fine dalle rese ossia finiva quando doveva far posto ad un altro libro ha scelto la via dei libri che vengono incrementati in numero altissimo e che sono disponibili sempre e dice che anche se di un libro si vendono infatti poche copie a parenti ed amici si ha un fatturato complessivo altissimo quindi Berzos vedeva come trasformata all'epoca persino dei bestsellers e il concetto che ricorre nell'articolo di Berzos è proprio quello del termine abilitazione abilitare bisognerebbe bisogna abilitare moltissimi autori ad autopubblicarsi a vendere i propri testi quando Berzos lanciò per Amazon il Kindle per la lettura e questa sua operazione aveva trascinato diversi altri autori ad interessarsi della allo stesso modo della cosa aveva prodotto un fenomeno importante ossia che qualunque autore può pubblicare e vendere il proprio libro molto velocemente quindi il concetto messo in luce da graniere è che la tecnologia ha abilitato molte trasformazioni e la pubblicazione può avvenire in outsourcing sotto la direzione dell'autore questa è una delle innovazioni importantissime mentre prima insomma avveniva soltanto tramite e solo attraverso le case editrici e con questo sistema dell'auto quindi del self publishing l'autore che decide la copertina il marketing il target del libro la pubblicazione il prezzo stesso del libro realizza uno 70% di guadagno impensabile con l'editoria classica e soprattutto il controllo dell'opera indubbiamente per vendere i libri devono essere i libri buoni quindi devono avere anche dei contenuti ma soprattutto devono essere conosciuti per questo che l'autore sempre più ha portato da avere e viene richiesta per lui una piattaforma un platform online che può essere un blog un sito oppure anche un social network questa avventura del self publishing iniziata con Amazon trascina in questa avventura moltissimi innovatori e sottrae molto pubblico all'editoria tradizionale l'articolo l'altro articolo che vi ho proposto è quello dell'auto publishing sull'auto publishing di Sandrini di Mauro Sandrini e dice che l'auto publishing non nasce oggi perché all'inizio tra l'inizio dell'editoria l'autore e l'editore erano in uno stretto rapporto l'auto pubblicazione è stata la scelta che comunque rimaneva nel passato chi era escluso dall'economia editoriale tradizionale aveva però il difetto l'auto publishing di di non poter raggiungere i lettori o comunque di raggiungerli con molte difficoltà invece l'ebook e i canali di distribuzione possono essere aperti a tutti dice Sandrini questo cambia il mercato dei libri il ruolo degli autori la modalità di divulgazione del pensiero e anche la formazione si ha indubbiamente un overload nell'epoca attuale di informazione non si sa più cosa leggere nel nuovo contesto culturale quale quindi scelta fare il problema quindi prossimo venturo messo in rilievo da Sandrini che è un problema secondo lui nevralgico sarà quello di scegliere ciò che è utile socialmente ed è questo un problema molto più importante di quello dei mezzi tecnici di lettura del digitale per la settimana quindi è prevista una riflessione su questi temi dell'autopublishing e di ripulire il testo che avete prodotto con Calibre e con Sigil in modo da avere un e-pub veramente ottimo ripulito e verificato cercate di validare questo testo con l'editor di di Sigil e questo è tutto vi auguro una buona serata e se avete delle domande potete farle oppure potete scrivere nel forum le vostre impressioni sugli argomenti che sono stati trattati in questa settimana buona serata o . to Grazie a tutti.